La proclamazione dello stato di crisi nazionale per l'intero settore della intensa locale e questa la richiesta del segretario nazionale della federazione della stampa franco siddi per cercare di far fronte alla gravissima situazione in cui si trovano le tv territoriali vittime della recessione del calo della pubblicità dei ritardi nell'erogazione dei fondi pubblici e soprattutto del passaggio al digitale terrestre il leader del sindacato dei giornalisti ne ha parlato a bari in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione della stampa ma quella delle tv non è l'unica emergenza del settore editoriale come dichiarato anche dal presidente regionale raffaele lorusso il sindacato cerca di mettere in campo le azioni per salvaguardare l'occupazione ha addirittura previsto un intervento di solidarietà per abbattere i contributi nel caso di nuove assunzioni per due anni anzi per tre anni tuttavia c'è un problema di fondo molti settori non ce la fanno perché non sono organizzati sul piano editoriale perché il mercato della pubblicità si restringe perché le risorse scarseggiano è evidente servono imprese sane e servono però anche imprenditori onesti e capaci imprenditori editoriali non basta possedere un mezzo per fare editoria occorre sapere cosa fare cosa bisogna fare con di editoriale per avere un'incidenza uno sviluppo una ripresa in questo momento noi paghiamo una crisi senza precedenti un'ondata peggiore di quella di tre anni fa quando avevamo tanti prepensionamenti oggi i giornalisti finiscono in cassa integrazione o in contratti di solidarietà il settore più colpito è quello dell'emittenza locale che paga un passaggio al digitale fatto male lo sapevamo da tempo l'avevamo avvisato tutti paga una distrazione dello stato rispetto ai contributi pubblici erogati senza criteri oggettivi e paga anche i ritardi dei contributi pubblici per cui c'è un settore che sta andando al collasso sullo sfondo ci sono anche i problemi legati all'accesso alla professione troppo casuale che sarà uno dei temi del prossimo congresso regionale della sostampa incentrato naturalmente sulla lotta al precariato grazie a tutti